Ecco la nostra meta, il rifugio al colle del Balur. Anche oggi un po' di sano bosco, ce lo prendiamo! Sempre dritto! Ecco il rifugio Balur, il sole che ci illumina. Alla prossima! Abbiamo dovuto ripellare, era troppo bella la discesa, quindi adesso risaliamo e riscegliamo. Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.